Musica Un commento Adriano E' un video Fami un commento Alla giornata di oggi Alla giornata di oggi Un percorso faboloso Bellissimo Una bella camminata con Davide No? Ci siamo divertiti Speriamo la prossima volta Di un bell'arcia come oggi Perfetto Ciao Silvio Un commento alla giornata di oggi E' positivissimo Vai vai Terzo punto di caliente E' eccezionale Le ragazze sono arrivate Nelle prime dieci Meglio di così Potevano andare E' Quindi abbiamo Le ragazze Cos'è che hanno vinto Tra Liguria? Speramente campionesse Liguri Campionesse Liguri Perfetto Speriamo che Venga contato delle palle Parliamo di questa giornata Questa giornata Vai È stata una giornata bellissima È stata la prima volta Che gli arcini Hanno partecipato A un campionato nazionale Siamo andati in Puma Abbiamo fatto un bel gruppo Ci siamo divertiti da matti Abbiamo fatto benissimo Risultati a parte Non ci interessano Ci siamo divertiti Comunque ricordiamo Che abbiamo avuto Anche un premiato È Khalid Vai Khalid Dici cosa Sono contento E' strafelice Questa Premiazione Questa mia Cos'hai provato A salire sul podio La mia prima medaglia E questa è dedicata A tutta la squadra Grazie Grazie a voi Che sono riusciti Ad arrivare A questa posizione A restare il terzo posto Grande Basta Perfetto Adesso intervistiamo L'ultra maratoneta Fabrizio Molari Che abbiamo l'orgoglio Che si è iscritto Con il golfo dei poeti Arcini anche lui Oggi ha corso Contro Natura Contro Natura Più Però Mi è stato un piacere Con tutto il golfo Arcini Tra l'altro Lui Ha già definito Il percorso Del trail Il golfo dei poeti Ricordiamo L'11 Settembre 2011 E il percorso Quale insidie Nasconde No Ci sono insidie Sarà un percorso duro Ma molto bello Sarà ripagato Dal paesaggio Dal panorama Indicativamente I chilometri 1.35 1.35 Per un Un'altimetria Cioè Il dislivello totale 1.500 1.500 Eh va bene dai Tanto per così Per gradire Tanta scale Molte scale Molte scale Tantissime Veramente tantissime Perfetto Perfetto Va bene Allora oltre che gli amici del Golfo dei Poeti Del nostro gruppo Abbiamo anche gli amici dell'Arci Favaro Che sono qua presenti Che sono qua presenti Ora quando è che passerete al nostro gruppo? Eh 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 No no scherzo Non voglio mettere Zizzania Che poi magari Ringraziamo Ringraziamo E' così così Che quando provvediamo Ci puoi sentire Da pagare A testa Ti auguriamo di essere Così Creiosi Felici Perché è una bella cosa Grazie 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 a voi Che ci chiamate sempre Ci fate passare Veramente una bella giornata Perfetto Io non sono più Sono giovanissimo Mi fanno sentire giovane Ciao ragazzi Perfetto Grande Mario Perfetto 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 Perfetto